Soverato sul suo splendido lungomare sta vivendo una notte meravigliosa, RDS Summer Festival. Il campo Nunzio Marino si è trasformato in uno spazio di divertimento fatto del DJ set di Fabrizio H, della musica coinvolgente e qualitativa di Matteo Lotti e naturalmente della forza travolgente e innovativa del sound di Jimmy Sachs. Un happening festoso e partecipato inserito in un contesto organizzato con sapiente professionalità, capace di coinvolgere centinaia di persone di tutte l'età unite dalla grande voglia di cantare, ballare e divertirsi. La prima delle tre serate targate RDS si è rivelata una festa bellissima, impreziosita da un Jimmy Sachs superlativo, capace di mantenere le grandi attese create si intorno alla sua musica e al suo nome. L'amministrazione comunale ha riportato il sano divertimento al centro del paese, grazie a un evento di carattere nazionale che ha fatto conoscere, se mai ce ne fosse stato bisogno, soverato di il suo mare in tutta Italia e non solo. E adesso che le polveri sono accese, i prossimi eventi, Rocco Ante, Raff e Achille Lauro, potranno soltanto continuare a dipingere nel cielo e lo ionio un arcobaleno festoso, colorato e felice. Tutti a ballare, braccia alzate al cielo, in un'estate ricca di promesse, speranze e, forse, anche di certezze. L'erba sintetica ha accolto un popolo attento a non distruggere il proprio ambiente, ma al tempo stesso scatenato nel ricercare condivisione, unione e tanta, tanta vita. Grazie a tutti coloro che hanno reso indimenticabile la prima puntata del Summer Festival RDS a Soverato. E Soverato torna agli albori della musica con il concerto di Jimmy Sachs, il sindaco Daniele Vacca è già in prima fila sotto il palco e si gode la musica, ma questo Summer Festival di RDS è un evento importante. È un evento importante anche legato alla promozione turistica della città di Soverato, sono tre dati importanti, domani abbiamo RAF e dopodomani abbiamo Achille Lauro, quindi questo ci permette anche di entrare nei circuiti della promozione a livello nazionale. RDS ha scelto soverato per poter esibire queste tre tappe importanti e noi siamo orgogliosi di poter ospitare RDS. E in uno degli stand degli sponsor che incontro Lele Amoruso, uno degli organizzatori, l'anima di questa Soverato turistica festiva e meravigliosa. Lele, un altro strike, un'altra serata bomba. Siamo felicissimi di accogliere nuovamente RDS qui a Soverato, dopo l'esperienza molto positiva del 2019, quest'anno è approdato a Soverato l'RDS Summer Festival, quindi lo ringrazio veramente di cuore la radio per aver scelto nuovamente Soverato come tappa, pensate che ci sono sei tappe in Italia e nel sud Italia siamo l'unica tappa, quindi veramente grazie di cuore per averci scelto. Una serata, un Night Village quest'anno, quindi un villaggio dedicato alla parte serale, Jimmy Sachs stasera come ospite internazionale, domani sera Raff e Rocco Ante e domenica sera si conclude il festival con la partecipazione di Achille Lauro. Tanti DJ, tante partecipazioni anche degli speaker di RDS e poi due giorni, sabato e domenica quindi 20 e 21, il Beach Village sulla spiaggia all'altezza della scritta sovrata della villa comunale. Vi aspettiamo con veramente delle giornate intense, ricche di divertimento. E quando si entra in una discoteca al chiuso all'aperto, dobbiamo chiedere a chi vive anche di musica, Lino Cerace, buonasera, è uno spettacolo veramente importante questa sera nel villaggio di RDS Summer Festival. Sì, bellissimo, una bella immagine per Soverato, RDS è una grande radio nazionale, quindi queste sono le cose che secondo me ci vogliono per Soverato, una grande e bella immagine, stasera un grande artista come Jimmy Sachs, poi domani sera e dopo domani sera anche altri artisti a livello nazionale, è quello che vogliamo noi che viviamo di questo Soverato. Jimmy Sachs è uscito fuori dai social e poi ha conquistato il mondo, quindi è un artista che ha fatto un percorso inverso rispetto a quelli che si fanno di solito. Sì, è un artista tutto tondo, poi a parte essere uscito dai social, molte volte si fa per diciamo per essere fuori dagli schemi, quindi magari a lui è andata bene. E non c'è grande vento se non c'è la sicurezza e noi così da cittadini, da semplici osservatori abbiamo visto grande professionalità e organizzazione. Abbiamo con noi il signor? Dario Calabretta. Che mi sembra, se è scritto bene sulle spalle, di Unica, quindi siete venuti a fare il servizio d'ordine insieme con la polizia, ma la gente è tranquilla. Tranquillissimo, siamo contenti, ci state ospitando come non mai, molto cordiali e molto carini. Anche perché qui a Soverato c'è il problema che si fa movida e si fa confusione, stasera ci si diverte e basta. Come dovrebbe essere sempre, quindi io non vedo niente di differente, mi sembrano tutte persone molto carine e molto a moto. Ho soverato uno nel cuore della musica e andiamo proprio da quelli che hanno conquistato la prima fila e non scusate, nel Soverato 1 TV avete conquistato la prima fila e la grande. Quindi sapete che stasera si riempirà tutti, speriamo che venga così bello pieno. Da dove venite? Groseto, buon divertimento. Scusate, buonasera, è il Soverato 1 TV. È il Soverato 1 TV, buonasera, da dove venite? Buonasera, da Groseto. Bene, siete in prima fila, avete conquistato il posto migliore. Non ci muoveremo per tre ore. Allora, buon divertimento. E allora, Soverato 1 TV, vediamo chi è arrivato per primo. Da dove venite? Quindi siete abituati ai grandi spettacoli, ma Soverato non è male. Sarete qui anche nelle prossime serate. No, sono venute. E allora, buon divertimento. Possiamo far dire qualcosa anche a lui. Noi uomini di solito non parliamo, parlano sempre le donne. Conferma. Grazie, buon divertimento. Allora, per Soverato 1 TV avete conquistato la prima fila, ma sarete qui per tutti gli spettacoli? Purtroppo no, saremo solo qui per stasera. Ci sarebbe piaciuto esserci tutti tutti gli spettacoli, però... E allora, buon divertimento. Da dove venite? Da Catanzaro. Noi siamo romantici. Ve lo date un bacio sotto il palco. E quando c'è un evento a Soverato, la misericordia è presente in trincea. Antonio Tavella ci si diverte, sicuri e facendo anche tante cose buone. La sicurezza è importante, anche perché adesso, con tutto quello che sta succedendo in giro, dopo quello che è successo a Torino, per la Coppa dei Campioni, ci sono delle indicazioni molto restrittive. E noi cerchiamo di attenerci sempre al meglio. Siamo stati anche di recente al Jova Beach Party. Lo abbiamo gestito insieme ad altre misericordie. Quindi diciamo che abbiamo un'agenda molto piena. Oggi abbiamo ambulanze qui, ambulanze senza sostene e anche altri automedici sparsi nel territorio. E a divertirsi qui alla RDS Summer Festival. Ci sono tante ragazze bellissime. Da dove venite? Salerno. Salerno. Anch'io sono di Salerno. Che zona è di Salerno? Anch'io sono di Salerno. E allora ci siamo incontrati. Per Soverato 1 TV lanciate un messaggio a tutti quelli che si divertono stasera con la musica di Jimmy Sacks. Divertitevi. Siamo qui per questo e spero ci divertiremo tutti. E con grande disponibilità Filippo Ferraro dopo aver lanciato Jimmy Sacks dal palco mentre stava anche mangiando e riposandosi ha detto vi aspetto domani perché domani c'è un grande appuntamento. Eh sì perché da domani intanto grazie per l'ospitalità, grazie Soverato. Domani si parte la mattina e il pomeriggio con ingresso gratuito domani e domenica al Vici Village dove ci sarò io. ci saranno i nostri compagni di viaggi, partner, gadget, musica, quindi veramente una grande festa. E poi domani sera ancora qua Rocco Hunteroff e domenica Achille Lauro. Quindi veramente una grande festa. Vi aspettiamo, siamo felicissimi di essere in Calabria. Grazie. Posso garantire come ha detto Filippo che io oggi ero a Catanzaro e in macchina ero con Filippo e Giuditta alla radio. Siete meravigliosi e vi seguiamo sempre. Grazie, grazie mille di cuore. Siamo molto felici quindi venite a vivere questa grande festa con noi che finalmente possiamo fare dopo due anni. Grazie. Viva Soverato. Sempre viva Soverato e viva la Calabria. E siamo proprio nel centro del villaggio di RDS Festival Summer e abbiamo Giuditta Recco che appena ha finito di lavorare stava andando a mare prima della serata di stasera. Come è Soverato? Bellissimo, poi io venivo in vacanza qui, sono venuta fino all'anno scorso e oggi ho potuto coniugare proprio il mare bellissimo con il mio lavoro. Com'è andata? Perché ho visto che avete avuto tantissima gente, tutti felici. Sì, sì, ieri sera è stato uno spettacolo, speriamo di replicare, di moltiplicare ancora di più il numero di persone nella serata di oggi e anche in quella di domani. Allora un'ultima preghiera, come faresti a presentare Soverato se fossi sul palco dell'RDS Summer Festival? Soverato non ha bisogno di presentazioni, basta guardare questo mare, non ha bisogno di essere presentato, è bellissimo. E com'è Filippo Ferraro? Filippo Ferraro è la mia metà radiofonica, senza di lui io non potrei nulla, è il collega migliore che potevo sognare di avere. E allora io sono qua in ginocchio davanti a Filippo Ferraro che si sta riposando, sta anche bevendo, quindi è anche un essere umano. Come sta andando questo pomeriggio di sabato qui a Soverato? Bene bene, intanto veramente grazie ancora a Soverato che ci ospita, è andata molto bene, tanta gente, tanta presenza, tanto entusiasmo, il clima ci sta da una mano perché è ventilato il giusto, quindi veramente grazie, molto bene. Abbiamo chiesto a Giuditta Recco che è andata a fare un bagno, se ci faceva un grido, una presentazione di Soverato come si potrebbe fare dal palco dell'RDS Festival Summer, ce la fai? Allora io dico, siamo nella regione più bella d'Italia, nella città più bella d'Italia, alla voce di Soverato, ma io dico sì. Ti ringraziamo e ancora hai fatto il bagno, com'è il mare? Hai fatto il bagno oggi, pausa pranzo ed è veramente bellissimo, c'era stato già qualche anno fa ma devo dire che è ancora meglio, quindi sono felice di fare il villaggio ma appena finisce mi ci butto di nuovo. E l'ultimissima domanda, voi qui ridete, scherzate e date divertimento, ma dietro c'è grande professionalità e un grande lavoro, quindi una squadra che funziona? Beh insomma dal punto di vista organizzativo c'è un lavoro di mesi che ha portato qua anche perché portare un festival che sia diurno in una location e serale in un'altra location è una macchina davvero imponente, non esagero dicendo che credo che sia il festival itinerante più importante dell'estate, cioè ci sono altre radio, altre situazioni che sono one shot o con meno date oppure soltanto serali, una cosa che porta in una cittadina un evento che va dalla mattina alle 10 fino alle 2 di notte così come il nostro non esiste, quindi veramente c'è un lavoro importantissimo, quindi grazie a chi veramente rendo possibile tutto questo. E per completare con una grande, come diresti tu, Marchetta, è vero che la caratteristica delle grandi radio è quella di essere umili e dare voce anche alle piccole televisioni? Ma soprattutto perché alla fine io poi vengo da una realtà regionale, ho presentato tante cose anche in televisioni regionali, io dico sempre che tu stia parlando a 10 persone o un milione di persone, lo devi fare sempre nella stessa maniera, quindi onore alle grandi e piccole realtà. Eccoli, abbiamo i padroni di casa, siamo all'ingresso del village del RDS Festival Summer, Giuditta e Filippo, possiamo entrare come 6S1 TV? E' certo che potete entrare, siete tutti invitati. Vi vogliamo soprattutto qua perché questa è la vostra gente, la vostra terra e noi vogliamo animarla come voi fate tutti i giorni. E voi siete la coppia che tutti amano, vi ringraziamo e allora andiamo tutti da Raff e Rocco Antti. Andiamo, vi aspettiamo dentro, venite. Fabrizio Acca e Matteo Lotti hanno riscaldato il pubblico vivo e numeroso che ha invaso il campo Munzio Marino di Soverato in occasione della seconda serata del Summer Festival RDS. RDS Star, Raff e Rocco Antti, personaggi in radio di soddisfare ai palati musicali di varie generazioni, di amanti del sound, dei testi, del ritmo e delle canzoni che toccano il cuore. I presenti si sono contati a migliaia, oltre tutti coloro che hanno affollato il lungomare Europa e della perdita dell'Italia. Il Night Village di RDS ha bissato il successo ottenuto durante la giornata dal villaggio posizionato sulla sabbia dorata, rilossi all'ora. Poi i due big hanno innescato e dato il via ad una festa travolgente, capace di coinvolgere tutti i presenti. Ogni singola persona ha ballato e cantato sino a perdere la voce. Rocco Antti, con la sua accoggente salettunità, che non gli impedisce di ottenere successo ovunque, unita ad una grande capacità di trasciare il pubblico verso un sano delirio, è Raff, autentico totem della musica del genere, cantante, autore e soprattutto poeta, in grado di aprire con la musica i cuori di coloro che lo ascoltano e applaudono da tempo. Ancora un'organizzazione ai limiti della perfezione che ha consentito lo svolgimento di un evento a metà strada tra la festa popolare e il divertimento tipico delle discoteche più intriganti. E' stato un giorno buono per scatenare il proprio battito animale. E' una moto che va, che va di un progetto in velocità, è un rischio sassato. Se questo mondo non è mai come me lo vuole, se ti viene voglia di gridare, non fermarti più. Se questo mondo non è mai come me lo svolgimento di un progetto in velocità, è un rischio svolgimento di un progetto in velocità, è un rischio svolgimento di un progetto in velocità. E' un rischio svolgimento di un progetto in velocità, è un rischio svolgimento di un progetto in velocità. E' un rischio svolgimento di un progetto in velocità, è un rischio svolgimento di un progetto in velocità. E sembra che Soverato abbia sconfitto anche le nuvole che la mattina sembravano portassero pioggia e invece serata tranquilla, climaticamente, grande serata per lo spettacolo, Lele Amoruso. C'è grande attesa per stasera dopo una bellissima esperienza anche sulla spiaggia. Stamattina l'RDS Beach Village ha veramente animato la spiaggia e ha affrontato anche quelle che erano poche nuvole, le ha scacciate per portare il sereno. E stasera siamo nel Night Village presso il Campo Anunzio Marino con ospiti Rocco Hunt e Raf per una serata straordinaria. Già ieri sera è stato un assaggio incredibile, un coinvolgimento unico, veramente la radio sotto il cielo di Soverato ha stregato tutti. Anche perché Soverato ha lì di meravigliosi e enormi spiagge libere, ha anche il mare, è una località turistica d'eccezione. Una bellissima località turistica, dobbiamo lavorare sempre di più sul prodotto Soverato, sull'accoglienza, su questo tipo di concetto che è soprattutto un fattore culturale, dobbiamo sempre diventare più belli e più performanti per quelle che sono le esigenze del turista. Quello che fa piacere è che ho avuto contatto in questi giorni con lo staff di RDS, che sono tutti rimasti molto soddisfatti della nostra città. E non so se chiamarlo Sindaco Elecci Ernesto Onorevole, ma è lui l'uomo che ha iniziato questa storia di Soverato e che ora se la viene a godere, una Soverato di musica, di divertimento, di risalto nazionale. Sì, devo dire, faccio i complimenti al Sindaco Daniele Vacca, di Emanuele Amoruso, che alla delega proprio anche alla cultura, allo spettacolo, perché hanno riportato i grandi eventi dopo due anni che il Covid ha segnato un po' la storia del nostro paese, ma anche delle nostre cittadine, finalmente tante famiglie, tanti bambini che si divertono, è un bel segnale di speranza. Ernesto Lecci era pronto a ballare, cantare e divertirsi, è questa la Soverato che ci piace. Sì, la Soverato che ci piace è anche questa, è una Soverato accogliente per i ragazzi che fanno le ore piccole, la notte nelle discoteche, ma anche per le famiglie, con bambini, vediamo qua, di 5 anni, 6 anni, 7 anni, che si divertono negli stand, che ballano in piena sicurezza, in totale divertimento. Questo è il volto più bello, non solo di Soverato, ma anche della Calabria, la Calabria che dobbiamo raccontare. Buonasera, per Soverato 1 abbiamo i primi che hanno conquistato i posti migliori, certamente intervistiamo la signorina, da dove venite? Da Serra San Bruno. Meglio Rocco Ant o Raffo? Sono due stili, diciamo, un po' così, diciamo, perché uno è la vecchia scuola, l'altro, diciamo, è quella di adesso. Ci piacciono tutte e due, grazie. Sì, sì, assolutamente. E da qui, sempre Serra San Bruno? Sì. E' proprio una cellula di Serra San Bruno che è venuta qui, in prima fila per poter essere vicinissimi. Siamo emozionatissimi! A Rocco Ant, per Rocco Ant. Siamo emozionatissimi, vai Rocco, grazie. E per Soverato 1 TV vediamo delle signorine che hanno conquistato la prima fila, siete arrivate presto, per Rocco Ant o per Raffo? Eh, Rocco Ant, per Rocco Ant. E comunque da qui è vicinissimo, lo vedete benissimo? Sì, proprio bene. Da dove venite? Da Napoli. E il signore è con voi? Sì, sì. Però di solito gli uomini parlano poco, parlano più le donne. Eh certo, sono sempre loro. Buon divertimento. Per Soverato 1 TV sta trionfando l'amore, meglio Rocco Ant, Raffo o il fidanzato? È fidanzato. È fidanzato in generale. Da dove venite? Napoli. E allora lo facciamo per la televisione, un bacio romantico, visto che vi amate? Certo. Perfetto, romanticissimo. Grazie e buon divertimento. Grazie, ciao. E intanto, vediamo. Permesso. Chiedo scusa, per Soverato 1 TV, in prima fila, più vicino di così, non si può. Rocco Ant o Raffo? Rocco Ant. E Raffo niente? Anche, però Rocco Ant. Da dove venite? Vipo Valencia. Grazie, buon divertimento. Grazie. E vediamo che qui si aspettano quanto, ma si mangiano anche le patatine. Da dove vieni? Da Fiumicino. Benissimo. Fai un saluto a Soverato 1 TV e poi ci dici come sono le patatine. Sono buonissime, ciao a tutti, vi voglio bene. Grazie. Rocco, 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 Rocco. Signore e signori, sul palco dell'RDS Summer Festival, Rocco Ant. Buonasera a tutti. Soverato, le mani su tutti. Sì, sì. Ho una cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda di dentro. Giuro l'altra notte è stato quello, non esci più dal mio cervello. Non basterebbe un sole mello, tu mi ami più di ogni gioiello. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me. Dimmi se, questo sentimento va anche per te. Guarda finché, rimanendo ad occhi chiusi, mi do un bacio e poi ti scusi. Mi fate sentire la vostra voce, tutti quanti insieme. Mi volevo dedicare, mille canzoni scritte, latinare e accordare. Vivo le notti fino a quando sale, sale il sole. E fin colpo di me, mi volevo dedicare. Le mani da destra e a sinistra, tutti. Lo diciamo per sempre, perché mai nulla dura in eterno. Se credi troppo nei sogni, poi ti risvegliano sul più bello. Tutto sempre un déjà vu, mille parole e la tv. Poppa, vuole, palibu, parliamo come una tv. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me. Dimmi se, questo sentimento va anche per te. Valla finché, rimanendo ad occhi chiusi, mi do un bacio e poi ti scusi. Sto vedendo, mi fate sentire la vostra voce, tutti. Mi volevo dedicare, mille canzoni scritte, latinare e accordare. E quelle notti fino a quando sale, sale il sole. E fin colpo delle ore, mi volevo dedicare. Quello che trovo e non so cos'è. Le mani su, tutti. Le mani su, tutti. Come fa, come fa, la voce, la voce. La sensazione che a volte mi sale. Perché stiamo bene come spiace e mare. Come parte all'orizzonte. Ci portiamo tra le onde. E il vero e il mare si confonde. Le nostre onde. Le mani su, tutti. Come fa, come fa. Fino a quando sale il sole, perdi il tontore e le ore. Sì, ma le non direi che la voce. Quello che trovo e non so cos'è. Le mani su, tutti. Forza Calabria, le mani su, tutti. Questo va sul mio Instagram. Tutti, tutti. E il Tino Zotta non è terrore. Le mani su, tutti. Le mani su, tutti. Le mani su, tutti. Perdi il conto del tempo. Chi mi porta qui da me? Voglio dire, ti chiedi. Alcune cose. La voce, tutti. Il Tino Zotta non è terrore. Sì. Ma solo il mondo. Le mani su, tutti. La leggo sul tuo viso. Ancora il testino. Di prima ci ha notato. Le mani, le mani su, tutti. Ok. Anche in fuoco, tutti con la mano a cielo. Anche voi fuori le tracete. La cantiamo insieme. Voglio vedere di tutti quanti saltare. Su, 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 su. E poi Anche voi fuori le tracete. Buono. Ma solo il mondo. Di Dino Cristiano. La presenza alla terza serata del Salmer Festival di Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS, ha suggellato il forte legame tra Soverato e la radio 100% grandi successi. Il pubblico, se possibile, è ancora maggiore rispetto alle precedenti giornate di festa, con il campo anunzio marino che all'improvviso è sembrato addirittura piccolo rispetto alla folla che lo ha gremito, sfidando anche la pioggia, sin dalle prime ore del pomeriggio. Alla consola, apprezzatissima mano del DJ Fabrizio H, ha fatto ballare veramente tutti. A seguire la verbo musicale e il sound, prima di Schofi e poi di Astol, hanno riscaldato il pubblico. Il food and beverage del Night Village si è dimostrato all'altezza delle richieste, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Giuditta Recco e Filippo Ferraro, splendidi padroni di casa, hanno accolto il pubblico con la consueta bravura professionale e la straordinaria capacità empatica. Due voci di RDS davvero straordinarie, ma soprattutto due belle persone, umili oltre che valenti. E poi Achille Lauro, ha preso possesso dell'arena e dei cuori dei presenti con il suo stile e suo modo di essere. Un'onda travolgente che ha trascinato tutti in un viaggio poetico, musicale, multimediale, intenso ed avvincente. La tre giorni di Soverato si è conclusa come uno spettacolo pirotecnico, con il botto più grosso che ha strappato applausi a oltranza. Rimpianti? Uno soltanto, che la festa si è già finita, ma l'estate della perla dell'Oionio continua, mentre il ricordo del Summer Festival RDS resterà indelebile tra le stelle più belle di un agosto meraviglioso e trascendentale. Buonasera, scusate, per Soverato 1 TV. Prima fila nonostante la pioggia. Eh sì, però ne vale la pena per Achille Lauro. Quindi un sacrificio da fare? Sì, assolutamente sì. Da dove venite? Cosenza. Vediamo un po'. Ecco, abbiamo anche altre signore. Signora, quindi se piove resta qui eroicamente? Sì, sì, certo. Io vengo da Milano, sono qua in vacanza. E allora deve restare per fuoco. E sono venuta qui per Achille. Benissimo, buon divertimento. Anche voi da Milano, signora? Sono assieme alla mia amica, stessa cosa. Grazie, buon divertimento. Grazie. Eccoci, la pioggia non vi ferma. No, niente, ferma per Achille Lauro. Un saluto a Soverato 1 TV. Ciao, Soverato 1 TV. Ciao, vediamo le zeta. Ciao, zeta. E allora, quello che vi chiediamo è intonare un pezzettino di qualche canzone di Achille Lauro, per noi anziani che non le sappiamo. Quale facciamo? Oh sì, sì, me ne frego, me ne frego, dimmi una bugia, me la bevo. Bravissima. Da dove venite? Gioiosa Ionica, Laulonia. Buon divertimento. Grazie, grazie. Permesso, scusate, per Soverato 1 TV. Un saluto, siete per Achille Lauro? Sì. Da dove venite? Da Soverato, da Sadriano, scusi. Benissimo, e quindi Achille Lauro anche se piove. Esattamente, per Achille Lauro tutto. E arriviamo anche in prima fila, grazie al fidanzato, sicuramente la signorina ha conquistato la prima fila. Scusate, per Soverato 1 TV. Fa bene. Piove, ma non si molla. No, assolutamente. È un concerto, sì. Perché Mauro, questo è altro. Non si perde. Soverato 1 TV in queste tre serate ha cercato l'amore romantico. Un bacio per i nostri tre spettatori. Grazie. Grazie a voi. Buon divertimento. Grazie. Buonasera, per Soverato 1 TV. Non facciamo pubblicità, ma diciamo che questo è lo stand che ha fatto ballare più persone in questi tre giorni. Assolutamente, si continua a ballare anche stasera. Siamo all'ultima serata e si continua a ballare. Non ci fermiamo, nonostante il tempo. Noi ci siamo per chiudere in bellezza questo meraviglioso evento. Sia di giorno che di sera. Assolutamente, di giorno siamo stati in spiaggia fino alle 18 e di sera fino alle 2 di notte. Siamo qua, anzi, venite, venite. E soprattutto avete avuto ballerini provetti o persone come me un po' imbranate? Abbiamo avuto alcuni ballerini provetti, tanti tanti imbranati e sono quelli che ci piacciono di più, perché non abbiamo solo gli imbranati. E a noi ci piacete perché ci avete fatto divertire, grazie. Grazie a voi Soverato. Buonasera, per S1 TV, la televisione Soverato, stiamo andando dagli stand che hanno raccolto più persone. Voi avete dato mortadella a tutti? Assolutamente, sì. Non solo mortadella, mortadella buona. E quindi è stata un'esperienza positiva? Decisamente, molto positiva. Possiamo dire i nomi della squadra? I nomi dei team, sì, certo. Prego, prego. Fatevi dire. Claudio Pisano. Mirena. Giosi Pastore. E lui è Paolo che è andato a recuperare la mortadella da dare alle persone. Perché è timido. E comunque grazie perché ha avuto un enorme successo. Com'è Soverato? Bellissima, venite tutti a Soverato in vacanza. Bellissima, venite tutti. E allora la festa non è festa se non c'è il General Manager di RDS, Massimiliano Montefusco, che gentilmente ci dice quanto è bella RDS. No, in realtà non è bella e non c'è festa se non c'è il pubblico che abbiamo avuto e l'affezione di Soverato, che è stata straordinaria. Anche perché la sua filosofia è proprio quella di mettere il pubblico al centro. L'ascoltatore che, come lei ha detto, ha una radio che preferisce, non un programma come in televisione. Sì, il medium radiofonico è sempre un medium caldo, che dà una grande partecipazione, un protagonismo attivo da parte delle persone. E quindi il festival vuole rappresentare tutto questo. Una festa per tutti. La cosa bella che abbiamo visto a Soverato, oltre al straordinario territorio, l'affezione che c'è da parte di tutti, da parte delle famiglie, dei giovanissimi, e perché tutti hanno la necessità di avere un ricordo nel cuore della loro estate. Ai miei tempi si diceva la fantasia al potere. RDS fa fantasia, ma con professionalità e grande organizzazione. L'abbiamo sperimentata in questi tre giorni. Sì, una tre giorni, sia sulla parte di Unambiz, che è gratuita per tutti, sia sul villaggio serale, che consente a tutti di poter godere un grande weekend, fatto di musica, 100% grandi successi, di intrattenimento, e perché no, anche essere attivi. Lo abbiamo fatto anche grazie alla Music Keyscam, che tutte le persone si possono rivedere sul Megascreen, così con le installazioni che abbiamo messo qui sul villaggio. Lei ha detto anche che a breve, forse anche tra poco, avremo la radio anche in galleria. Io ne faccio otto per stare con RDS da Catanzaro a Soverato. L'obiettivo è quello sempre più di personalizzare anche i flussi, i contenuti, e perché no, geolocalizzarli. Le persone hanno necessità di avere una gamma, e perché no, immaginiamo di fare questo anche per Soverato. Allora, noi ringraziamo RDS, sono stati tre giorni bellissimi, una storytelling da raccontare, e da raccontare anche nei prossimi giorni, ascoltandomi via radio. L'auspicio è quello di far raccontare a tutti la propria estate, su RDS, sul canale 265 del Digitale Terrestre, perché no, in radio è sulla nostra app, è sui social. Ho trascorso tre serate meravigliose insieme al sindaco Daniele Vacca, qui al RDS Summer Village. Facciamo un consuntivo, è stata una bella festa, una lunga festa, molto divertente. Sì, stasera chiudiamo con il Summer Village, qui dal Campo Ippica, con Achille Lauro. È stato un consuntivo positivo, perché molta gente ha frequentato sia la sera qua, ma anche il villaggio che è sulla Renile. Quindi siamo contenti di come sono andati questi tre giorni. Però l'estate travolgente di Soverato continua, batte la pioggia, c'è sempre il sole. Non andiamo via Soverato, agosto non è finita. Sì, fortunatamente il pomeriggio, il tempo stava facendo un brutto scherzo, però è tornato il sereno. In Soverato ancora ci sono molti eventi, non finisce con stasera. E quindi io dico che l'estate è ancora lunga, quindi pensiamo ai prossimi eventi, in modo che la città possa vivere in modo molto sereno questa ultima parte dell'estate. Achille Lauro! Oh! Perché non sa di se mai vorresti che buttassi tutto quanto all'aria? Perché per un capriccio lo sai che è così? Non si può, non si può volerà, non mi sguora nemmeno. Sono l'evento! Non mi prego, non mi prego. Dimmi una cucina, me la bevo. Ci sono un piase, la nego. Oh sì, me ne prego, la bevo. Sì, me ne prego. Prendi un gioco, dimmi che ci vedo. Stiamo la panna, mi fa la prima. È una bimba, cerca di un bacio, di poi le darà. Io sempre cerco di quello che ho perso, perdendo le cose che ho. Amore, dimmi qualcosa, qualcosa di te che non so. Così mi prendo un capicolo e perso di te, anche se non si mi non può. Tutti... Così mi prendo un capicolo e perso di te, anche se non si può. Grazie a tutti.